Il primo invito è quello di organizzarsi, di fare spesa una volta alla settimana, questo è basilare e quando si viene a fare la spesa di venire con delle liste ben precise, di cercare di farla velocemente perché la spesa così si accorcia anche le code, la spesa non è più quella di prima e se c'è una corsia dove c'è una persona in più perché noi le contingentiamo e quindi non c'è grossa affluenza ci si può passare dopo, non serve se stia lì a aspettare o che ci si sorpassi perché ora bisogna volersi bene, bisogna rispettarsi. Questo l'appello alla cittadinanza del direttore del centro commerciale Sette Ponti di Arezzo che come tutti gli altri supermercati in questa fase di emergenza coronavirus si è dovuto misurare con nuove misure di sicurezza. Noi ci stiamo attrezzati fin da subito per cercare di fare due cose la prima di dare un servizio che garantisse la sicurezza in un momento dove la sicurezza è obbligatoria e dall'altro cercare di allevare il disagio alle persone che sono in coda anche invitandole oltre a fare la spesa una volta alla settimana ma è giusto che sia e purtroppo è un invito che ancora da troppe persone viene disatteso e questo è un grande problema perché la stragrande maggioranza delle persone si comporta bene fa la carrellata e viene... c'è ancora però una parte importante che non capisce che ti viene a prendere la baguetta e la bottiglia tra l'acqua per fare un esempio e questi danneggiano tutti perché aumentano le code vanificano lo sforzo di tutti e non hanno veramente capito l'importanza di dare una mano in un momento come questo. Diciamo che ci sono varie fasi, al mattino è molto molto frequentato soprattutto prima dell'inizio infatti noi cerchiamo di aprire anche prima la mattina anche alle 7.30 per cercare di diluirlo il più possibile poi durante la mattinata diminuisce molto e ci sono dei momenti dove non c'è fila le persone pensando che sulla pausa pranzo ci fosse meno gente invece fanno al contrario si stanno accalcando e poi anche nella tarda serata verso la fase finale la parte centrale pomeriggio è la migliore perché non c'è quasi nessuno. E' stata poi la stessa COP a lanciare l'iniziativa Spesa Sospesa con l'obiettivo di aiutare chi in questo momento di emergenza sanitaria e crisi economica è in difficoltà. Diamo la possibilità a chi vuole di fare donazioni o in euro oppure in punti alla cassa e la nostra fondazione, la fondazione il cuore si scioglie, alla fine si impegna a raddoppiare la cifra raccolta. Pensiamo di riuscire a dare una mano a tante persone in un momento dove ce ne sarà veramente bisogno e presumiamo ce ne sarà veramente bisogno. Intanto in tutto l'Arettino come del resto nell'intera regione tutti i supermercati nei giorni di Pasqua e Pasquetta resteranno chiusi così come deciso dal sindaco Ghinelli e dal governatore Rossi. Le uniche attività commerciali che potranno restare aperte sono le farmacie e le edicole. Sarà inoltre ammessa la consegna a domicilio di generi alimentari di prima necessità ma solo a seguito di una prenotazione online o telefonica.